Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Alessia Messina, nota per la sua partecipazione a uomini e donne, ha subito una trasformazione sorprendente a causa della chirurgia estetica. Dopo essere stata scelta da Amedeo Andreozzi nel programma televisivo, oggi il confronto tra il suo aspetto prima e dopo l'intervento è evidente. Considerata una delle corteggiatrici più belle della storia di uomini e donne, Alessia Messina si è allontanata dal mondo dello spettacolo dopo aver conquistato il cuore di Amedeo Andreozzi. Nonostante la loro partecipazione a Temptation Island, la relazione è terminata poco dopo il programma. Attualmente attiva sui social, l'aspetto di Alessia è radicalmente diverso, suscitando stupore per il cambiamento dovuto alla chirurgia. Durante la sua partecipazione a uomini e donne, Alessia Messina era ammirata per la sua bellezza naturale, ma oggi appare trasformata, con interventi evidenti al seno, alle labbra e agli zigomi. I fan non hanno gradito questa metamorfosi, esprimendo disappunto per la perdita della sua bellezza naturale. La reazione dei fan è stata chiara, con molti che non hanno riconosciuto più Alessia dopo la chirurgia estetica. La discussione sul cambiamento dell'ex corteggiatrice è diventata virale sui social.